Il tempo sta scadendo per i 530 lavoratori del call center IMSS dell'Aquila. Incarico in scadenza e mancano 45 milioni di euro per procedere all'internalizzazione nella società IMSS Servizi. Entro marzo IMSS presenterà il piano industriale, mentre ad aprile sarà emanato il bando per il riassorbimento di 3.000 lavoratori in tutta Italia. La richiesta dei sindacati è l'inserimento della clausola sociale nel bando che tutelerebbe i lavoratori già impiegati. In mancanza della clausola si rischia infatti che rimangano fuori 131 lavoratori abruzzesi. Ieri intanto un tavolo di lavoro congiunto tra politica e sindacati ha rimarcato la necessità di un'interazione diretta con il governo per risolvere l'avvertenza call center. Si è svolto ieri l'incontro alla regione chiesto da SLC Fistel Wilcom il 14 di marzo, alla presenza anche del sindaco dell'Aquila, alla presenza del prefetto dell'Aquila e tavolo sul quale come SLC Fistel Wilcom abbiamo chiesto interventi, interventi concreti che diano risposta a tutte le problematiche che attualmente ancora attanagliano i 530 lavoratori dell'Aquila. Sul tavolo abbiamo posto il problema del budget che potrebbe far fallire l'internalizzazione. Abbiamo posto il problema della cassa integrazione, poiché l'Inps sta chiudendo i riubinetti, quindi sta diminuendo i volumi e causa l'applicazione della cassa integrazione. Il problema della mancanza dei criteri per quanto riguarda l'internalizzazione stessa, riguardo la selezione pubblica che l'Inps vuole applicare al contrario di quanto da noi sostenuto, cioè quello della clausola sociale. Sia chiaro che per il sindacato confederale l'internalizzazione deve avvenire ed avvenga nei tempi previsti con rispetto di condizioni economiche, normative e professionali di tutti quanti i lavoratori dell'Aquila. Come sindacato confederale qualsiasi opzione faziosa che deferisce dall'obiettivo dell'internalizzazione tipo il partenariato pubblico privato non è assolutamente accettabile. Auspichiamo di dare ai lavoratori risposte concrete aprendo a breve e in attesa di comunicazione del prefetto un tavolo prefettizio per intercedere nei confronti con il governo stesso.